Lei è il signoriste? Mi ascolti, non ho molto tempo. Dobbiamo incontrarci. Sa dove è il teatro dell'opera? Beh, no, ma posso trovarlo. Quando? Subito. L'aspetto lì subito. Ma lei non è il signoriste? No, lui è occupato. Vediamoci all'opera, subito. D'accordo. Ho bisogno di un'altra fonte di informazioni. Non si preoccupi. Tutti i frammenti sono autentici. Ne sono certo. Ma... È questione di principio. Per noi è solo questione di tempo. Abbiamo molta fretta. Dovevate pensarci un po' prima. Beh, vado a vedere cosa posso fare per lei.